Ciao, oggi sono qui per parlarti di questo negozio, Mondo Perle. Questo negozio è un negozio fondato da una ragazza che si chiama Manuela. Un negozio per lo più di perle, come capirei dal nome. E della figura. Ovviamente nasce come un negozio di perle, ma ha davvero tantissimo materiale. Dopo te ne parlerò più dettagliatamente. Questo negozio nasce circa 5 anni fa, a Venezia, quando Manuela ha iniziato a trovare dei fornitori di vetro di Murano. Adesso è tornata a vivere a Genova, nella sua città, e quindi ha deciso di aprire questo negozio comprando proprio dai fornitori di Murano. Per cui si è specializzata in oggettistica e bigiotteria. Per poi estendere le sue varie scelte nel materiale on demand, che è una delle sue più grandi passioni. Le piace sempre cercare cose nuove, particolari e stravaganti, e quindi di ottima qualità. è una ragazza molto solare, molto carina, molto disponibile. La potrete trovare online, su due siti, uno è su ebay, che è un negozio. Comunque vedrete poi per bene tutte le info, vi farò vedere adesso anche più o meno la sua pagina. E poi l'altro è proprio il suo sito, che si chiama www.mondoperline.com. E anche questo è un sito molto carino e molto interessante. Allora, adesso vi faccio vedere il materiale che mi ha mandato. Ovviamente, queste cose che lei mi ha mandato, le potete trovare nel suo negozio. Infatti, come vi ho detto all'inizio, non vende solamente perle, ma ha tantissimo materiale, vedrete. Adesso vi faccio vedere quello che mi ha mandato, in questo pacchettino. Vedete il mondo perle, con la vostra prioritaria. Allora, mi ha mandato questa collanina, ovviamente tutto verde, quindi che sta bene insieme. Vi faccio vedere meglio, tiro fuori dalla bustina. Allora, mi ha mandato questo piattino con la sua tazzina. Carinissimi, davvero. Troppo belli. Faccio vedere prima la tazzina, il piattino. E la collanina verde, questa qui con le appalline. Un verde stupendo, davvero bellissimo. Credo di non aver mai visto un colore così bello. Poi adesso che sta arrivando la primavera e successivamente l'estate è un colore adattissimo. Davvero, davvero bello. Sono, devo dire, entusiasta di queste cose che Emanuella mi ha mandato perché sono stupende. E sicuramente invito tutti voi che state vedendo questo video a fare almeno un salto nei suoi negozi perché lo merita davvero. Mi ha mandato questo e poi mi ha mandato un'altra bustina. Ah, ecco, io ho mischiato. Con la bustina c'era anche questo qui di piattino. Ovviamente sono, credo siano in ceramica. Sì, in ceramica. Davvero bellissimi. E poi fatti davvero bene, benissimo. Stupendi. Quest'altra bustina. Qui ci sono delle perle in legno. Queste con gli smile alle stelle. E poi degli charms in argento di bedano, credo sì. Vi faccio vedere meglio. Allora, queste sono le perle in legno. Davvero carine. Non le avevo messe fatte in questo modo. Sono davvero, davvero carinissime. Questa con lo smile. Che poi, vedete, ha due fogli. Quindi potete usarle benissimo. Con il chiodino a t. Potete farci degli orecchini, dei bracciali. Qualsiasi cosa. Questa stellina qui. Guardate che simpatiche. Ok. Ho fatto questi bellissimi charms. Ovviamente. Li faccio vedere uno per uno. Ecco. Mi hanno dato un cameo. Questo qui. Questo cuore è stupendo. Vedete com'è fatto? Ha tutti i fiorellini in rilievo dentro. Ho fatto così. E il rialzo. Davvero stupendo. Bellissimo proprio. Bellissimissimo direi. Poi, queste posatine stupende. Che mi ricordano tanto la casa di Polly Pocket. Non so se se voi ricordate quando eravate piccoline. Due charms di alokitti. Stupende anche questi. Fatti benissimo. E poi due due ciondolini con il simbolo della pace. Ok. Questo è tutto il materiale che lei mi ha mandato gentilmente per mostrarvelo. Comunque, vi ripeto. Andate sui suoi siti. Sul suo negozietto. E vedete che sicuramente troverete tantissimo materiale. Soprattutto per chi per chi per chi fa largo uso di perle. Davvero. Ce ne sono di tutti i tipi. Ok. Adesso vi faccio vedere cosa avevo intenzione di fare in questa collanina. Allora, io volevo avevo pensato di fare in questo modo. Allora, utilizzerò la tazzina con il piattino più grande. Non questo qui piccolino. Ma questo qua più grande. E cosa farò? Prenderò la colla a caldo attaccherò attaccherò la tazzina qui al centro in questo modo. Ok. Poi, con un anellino andrò a infilarlo qui nel manico della tazzina. Quindi, una volta attaccato sia la tazzina che è l'anellino che è l'anellino e chiuso la collanina in questo modo ok, verrebbe una cosa del genere. L'anellino attaccherebbe qui nella collana e quindi verrebbe una collanina del genere. beh, io credo sia fantastica. Poi, ovviamente, aggiungerei per dare un tocco in più aggiungerei un un cucchiaino fatto in questo modo quello che vi avevo mostrato prima per dare ancora un tocco più più carino. Ecco, così vi faccio vedere meglio. Ok. Così, vedete? Guardate quanto è bella. È davvero stupenda. Questo colore è un unico, sensazionale. Mi piace da morire, davvero. Fantastica. Ecco, io vi ho dato un'idea, ovviamente, poi ognuno fa come meglio crede. Però, vedendo questo materiale, mi è venuto subito in mente di creare una collana con questi materiali, che è una cosa davvero carina. Ok, detto questo, tolgo tutto il materiale che vi ho fatto vedere e vi faccio vedere il sito e il negozio dove potete trovare Emanuela, quindi Mondoperle. Ok? Ok, questo è il sito. www.mondoperle.com Vedete, è un sito davvero molto dettagliato, fatto molto bene. Ha davvero di tutto, come potete vedere dai vari ciondoli alle perle. Ci sono varie categorie, bisù componenti, vetro di Murano, Loghitti, davvero tantissime cose. Vedete? Guardate, tantissimo materiale. Vi faccio vedere anche il bisù in vetro di Murano. Ok. Ve ne mostro qualcuno. Qualcuno. vi faccio vedere i bisù, quindi vi mostro questi bracciali. Uno a caso. Vedete che bracciali stupendo. delle perle uniche e rarissime da trovare online. Ok. Poi vedetelo con calma molto bene perché è un sito molto ricco. Adesso invece passo al suo negozio ebay. Questo è il negozio ebay. Vi metterò il link sotto. non peggio troverete queste grandissime perle. E sotto ovviamente tutti i prodotti materiali che vende. Quindi da anelli, catene, ciondoli, loghitti, dei cuori. Questi sono quelli che vi ho fatto vedere che mi ha mandato. Insomma ho una nostra scelta di materiale. cosa faccio? Vi faccio vedere delle perle. Guardate questi adesso ho trovato questi calici. Vedete questi calici in vetro di murano sono. non sono fantastici? Ditemi voi. Cioè è una cosa stupenda. Mai visto cose del genere. vediamo delle perle ecco allora le perle in legno ricordate vi ho fatto vedere prima delle perle in legno che mi ha mandato eccole vedete le stelline che sorridono queste altre stelline di smile bellissime tutte perle molto bellissime e perle in vetro vediamo quelle in vetro eccole qui ce ne sono tantissime insomma questi sono tutti i suoi contatti e i suoi recapiti quindi il negozio ebay e il negozio il suo negozio personale ok io credo che questo mondo perle vi abbia vi abbia detto tutto ovviamente vi lascerò tutti i link del negozio dei vari negozi magari anche le mail per contattare Emanuela sotto il box informazioni ma anche qui qui sopra il video avrete tutti i suoi contatti per bene il materiale che mi ha mandato è davvero ottimo vi ricordo davvero cose fantastiche stupende soprattutto questa catena che è davvero spettacolare a me piace da matti contattatela mi raccomando perché merita il negozio è davvero un ottimo negozio un consiglio che posso darvi ecco un saluto e a presto ciao